Ciao a tutti, bentornati sul canale, oggi nuovo video, questo è un videotag, che è un videotag che io ho visto da MissPenny09 ed è il videotag YouTube MadeMeByIt, cioè traduzione in italiano sarebbe a significare quello che YouTube ha fatto comprare, quindi una sorta di prodotti che io ho acquistato facendomi influenzare appunto da YouTube guardando i video. Ho scelto i prodotti che più sono andati di moda e che comunque effettivamente a me personalmente mi hanno influenzata ad acquistare questi prodotti e che comunque sono un po' più in voga sui canali. MissPenny diceva che è un video che ha spopolato un sacco, devo dire che non ho visto nessun video di questo genere, a parte il suo, di ragazze italiane, ce ne sono stati, ho dato un po' un'occhiata, ho visto parecchi video di ragazze americane, quello sì, anche di diversi anni fa, però attualmente di video di questo genere, ragazze italiane no, è infatti stato il primo che ho visto, l'ho visto da lei e mi è piaciuto molto, un tag molto molto carino, interessante devo dire. Allora, parto, non ricordo esattamente la cronologia degli acquisti che ho fatto, però insomma parto per categoria, partiamo dalle palette che ho acquistato facendomi influenzare appunto da YouTube. Non posso non menzionare una delle palette che più low cost, che più hanno mostrato un sacco di ragazze su YouTube e sto parlando della palette di Mua, la Undressed ed è appunto il dupe della Naked 1. Io l'ho utilizzata un sacco, come vedete, ci sono delle cialde che ho quasi terminato, devo essere sincera, ve l'ho detto anche negli ultimi video, ultimamente per quanto riguarda soprattutto il trucco occhi, non sto facendo chissà quali trucchi, anzi pochissimi, e anche se devo riprendere un po' a fare dei trucchi occhi un po' più particolari, perché ultimamente quasi per niente, anche se questa palette è davvero buonissima, devo dire, io la Naked 1 non ce l'ho l'originale, però questa qui l'ho utilizzata un sacco perché è un'ottima palette, costa pochissimo e le cialde sono davvero, cioè tutte le cialde all'interno della palette sono scriventissime e di ottima qualità, quindi io l'ho sempre consigliata proprio perché è molto 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 buona, mi sono trovata davvero molto molto bene. Altra palette che non può mancare è la Naked, la Naked Basics 2, la mia, io non no, la 1, ho acquistato solamente la 2, ed è questa qui, questa palette con dei toni caldi, o più che caldi, dei toni neutro, anzi sono abbastanza fredde come tonalità che vanno appunto dall'aborio, brillantinato, comunque non opaco, a quello opaco fino ad arrivare appunto a una sorta di marrone quasi nero, e io la consiglio tantissimo perché è una palette versatilissima, oltre ad essere molto comoda, versatile per fare qualsiasi tipologia di trucco e questa è una palette che su YouTube, non lo so, penso che ce l'abbia chiunque e quindi sono caduta nella trappola della Naked. Altra palette molto molto branata e molto molto chiacchierata è la palette della Wet n Wild e della Comfort Zone, la numero è 738, anche questa qui molto molto chiacchierata, che ha appunto queste colorazioni molto particolari, devo dire la verità, io non l'ho utilizzata tantissimo, a parte le colorazioni un po' più neutre, tipo c'è questo verde che obiettivamente l'ho provato ma non l'ho utilizzato spesso, c'è questa colorazione qui che dicono sia molto simile all'ombretto della MAC, che non ricordo come si chiama in questo momento, però dicono sia molto simile, questo l'ho utilizzato e non è molto bello, comunque è una palette molto molto carina, più che altro è particolare anche come colorazioni, però anche con questa, con i colori neutri è possibile fare diverse tipologie di trucco, anche dal trucco un po' più particolare e sofisticato a quello appunto un po' più basico, ecco. Però per quanto riguarda i prodotti, devo dire che questi prodotti, queste cialde, questi ombretti sono molto molto buoni perché hanno una sfumabilità molto molto buona e soprattutto sono molto molto setosi, non sono polverosi ma hanno una setosità fantastica e si stavano molto molto bene, si sfumano molto molto bene e il colore rimane comunque fedele a quello che vedete, perché spesso mi capita di provare delle palette una volta che provo i colori, i colori si sfaltano un po', invece questa qui è abbastanza fedele. Passiamo adesso, le palette sono queste, passiamo adesso, sempre per quanto riguarda i prodotti occhi, a dei prodotti che anche questi ho acquistato perché è influenzata, ops, perché è influenzata da YouTube, da comunque dalle ragazze che mostravano questi prodotti sui canali e sto parlando delle long lasting della Kiko, queste qui sono molto molto famose, penso le facciano ancora, io ne ho quattro di colorazioni, ho la colorazione numero 28 che è più un avorio diciamo base, non opaco ed è molto molto buona, tra l'altro l'avevo messa da parte ma devo riutilizzarla, mi piace molto, poi ho la numero 25 che è un grigio topo opaco che mi piace il sacco e molto molto mi piace, la cosa che mi piace di questi prodotti è che nonostante siano diciamo in gel, sono molto sfumabili e anche a lunga durata. Un colore bellissimo che adoro è il numero 37 che è una sorta di borgogna, che questo qui l'ho utilizzato un sacco ed è bellissimo, mi piace un sacco questa colorazione e l'ultimo colore che ho è il numero 05 che è una sorta di bronzo marroncino ed è bellissimo anche questo qui, quindi non è diciamo non è opaco e abbastanza satinato con delle perlescenze ed è molto molto bello. Questi prodotti occhi sono fantastici, ho acquistato quelli che più avrei giudizzato, ce ne sono un sacco di colorazioni, ci sono degli azzurri ma che io obiettivamente mai utilizzerei perché tendo a non utilizzare quel tipo di colorazioni, io diciamo per quanto riguarda gli occhi utilizzo colori un po' più neutri e questi qui erano quelli che più mi si adicevano e sono fantastici, famosissimi. Altri prodotti, passiamo adesso ai prodotti viso e prodotti che mi hanno influenzata da morire guardando i video, sto parlando di blushed balm, io ne ho quattro, ho quattro colorazioni, ve le mostro tutte, il primo che ho acquistato è stato il cabana boy che ho acquistato, infatti era uno, ho fatto il mio primo video haul dove all'interno mostravo appunto questo blush ed è questo colore molto particolare, questo rosa molto 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 intenso, bellissimo, tutti questi blush che vi mostrerò sono di una qualità pazzesca, io li adoro perché hanno una pigmentazione meravigliosa, sono sfumabili, le adoro, sono una durata molto molto alta, questo qui non è matte, è leggermente brillantinato ma non è molto molto, diciamo che non è troppo brillantinato, è luminoso ma non troppo ed è molto molto bello, il cabana boy, poi il secondo che ho acquistato è stato il down boy, anche questo qui molto molto famoso perché appunto influenzata da YouTube ed è questo rosa confetto, molto molto bello, questo qui a differenza dell'altro è molto più opaco, anche se guardandolo potrebbero intravedersi delle leggere micro perlescenze ma è opaco comunque, però l'effetto è molto bello, molto naturale e mi piace da morire anche questo qui, cioè mi piace un sacco la pigmentazione, non avete sicuramente l'effetto Heidi come dico sempre, però sono sfumabilissimi e sono veramente dei blush fantastici che io consiglio e mi piace un sacco, altri due che ho comprato insieme sono questi due ed è il Fat Boy che a differenza degli altri è un colore un po' più pescato, questo qui anche questo qui è matte, mi piace un sacco, questo qui però lo utilizzo un po' più d'estate perché è un colore un po' più caldo e con la bronzatura mi piace molto di più però è molto molto bello. Altro blush ancora di The Balm è l'Hot Mama, questo qui è strafamoso e dicono sia il dupe di Orgasm di Nars, secondo me non è proprio simile, lo vedo abbastanza differente, questo qui è differenza del Fat Boy che è sempre pescato, è un po' più luminoso, ha delle perlescenze all'interno, anche questo qui mi piace da morire, lo utilizzo anche esso d'estate molto di più perché lo vedo di una tonalità un po' diciamo più calda e quindi si sposa bene con i colori, con la bronzatura e con la carnagione un po' più calda però anche l'inverno è bellissimo. I blush di The Balm sono meravigliosi e li ho acquistati per colpa di YouTube. Altri prodotti che ho acquistato per colpa di YouTube, guardando video sempre, sono i pennelli di Real Techniques, io ho questi tre, il primo che ho acquistato è l'Expert Face Brush che è il pennello per stendere il fondotinta, lo utilizzo per stendere il fondotinta liquido e questo è il più vecchiotto che ho e sono già 2-3 anni che ce l'ho ed è ancora intatto, non mi ha perso per sbaglio neanche una setola, neanche un pelo per sbaglio ed è fantastico, è il pennello migliore che ho per stendere il fondotinta e mi piace soprattutto il fondotinta liquidi, trovo sia il migliore. Altri due sono questi due ed è uno per stendere il blush, che è questo qui, il blush brush che è questa forma a tulipano è molto molto bello, utilizzo solo questo per stendere il blush, anche questo è molto molto fantastico, nonostante la grandezza che sembra enorme per stendere il blush, in realtà lo stende benissimo e mi piace da morire. L'ultimo che ho acquistato invece è questo qui ed è lo Scalting Brush che lo utilizzo meno, devo essere sincera, perché non faccio spesso il contouring, comunque se lo faccio lo faccio di fretta o utilizzo un altro tipo di pennello, però questo qui soprattutto per scolpire gli zigomi è fantastico e mi piace molto, infatti questo è uno degli ultimi usciti appunto in casa Real Techniques di questa linea qui, poi sono usciti altri, quelli insomma tutti i figli, tra l'altro costosissimi, però molto belli e questo qui appunto era uno degli ultimi di questa linea appunto per il contouring, lo utilizzo meno però devo essere sincera. Altro prodotto sempre viso è questa palette di Nars, l'ho acquistata perché ho visto milioni e milioni di youtuber che parlavano benissimo di due prodotti in particolare, uno è Orgasm che è il blush più famoso di Nars e l'altro è la Terra Laguna. Io fortunatamente ho acquistato a un prezzo un po' più basso tutti e due prodotti, quindi questa palette piccolina dove all'interno ha il blush Orgasm e la Terra appunto Laguna e devo dire che mi sono assolutamente pentita di averla acquistata perché all'interno due prodotti ce l'ho già da un bel po' di mesi che appunto volevo provare quindi mi sto trovando benissimo, beh Orgasm è diventato uno dei miei blush preferiti, infatti penso che quando mi finirà già va insomma verso la fine anche se non c'è ancora il buchino però si vede. Lo ricomprerò perché è bellissimo, ha una luminosità fantastica, ha delle per le scienze dorate che con questo rosa caldo sa benissimo e Laguna appunto che è una terra fredda che utilizzo soprattutto per il contouring e mi piace molto, quindi questa palette è colpa vostra. Altro prodotto che ho acquistato di questo prodotto mi sono pentita maramente è questa tinta di Makeup Revolution, ho visto tantissimi video di ragazze che ne parlavano benissimo, che appunto lo adoravano quasi. Sto parlando delle tinte di Makeup Revolution, dicevo, la mia è tra l'altro una colorazione scurissima, Velvet, che è questo viola molto molto scuro, che sinceramente non mi piace perché si sgretola, l'ho detto anche in altri video, l'ho inserita nei bocciati, ce l'ho ancora perché non mi va di buttarla, mi dispiace, magari la cestinerò, la regalerò, ma in realtà è un prodotto che non vale non per il colore che non utilizzo, ma proprio per il prodotto in sé che si sgretola, si secca e no, no. Mi dispiace. Di questo mi sono pentita e non la ricomprerei. Ah, dimenticavo, un altro prodotto di The Balm, vi ho mostrato tutti i blush che ho, non vi ho mostrato l'illuminante di The Balm, che è il Mary Loumanizer, che è uno degli illuminanti più famosi. Io ho aspettato un bel po' di tempo come di acquistarlo perché non sono un amante degli illuminanti, li utilizzo molto molto poco, comunque non tutti i giorni, nelle serate un po' più particolari, però non sempre. Quindi ci ho pensato anche perché il prezzo di questi prodotti di The Balm non è proprio basso, è abbastanza altino come prezzo. Quindi insomma ci ho voluto pensare, però ho detto, vabbè, non ne ho, non ce l'ho, ne compro uno, ma buono, anche se ne ho altri di Essence, ma non li utilizzo obiettivamente. L'unico che utilizzo è questo qui, è appunto il Mary Loumanizer, che è il più famoso di Casa The Balm, ed è questo qui. Ed è questo illuminante molto 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 luminoso, ha un effetto bellissimo sul viso. Se applicato bene non si ha l'effetto troppo luce sul viso, troppo luminoso, ma è molto molto bello, molto delicato, nonostante sia molto pigmentato. Questo qui lo consiglio se amate l'illuminante, o comunque se non ne avete molti, ne volete uno buono, acquistate questo. E l'ho acquistato solo perché le avevano tutte, quindi ho detto, devo averlo anch'io. Passiamo ai prodotti labbra, ancora. Parliamo dei rossetti MAC, io non ho solo questi rossetti, ne ho altri, però i rossetti che ho acquistato perché è influenzata dai video, da YouTube, perché sono i più famosi in casa da MAC, sono questi tre. E sto parlando rispettivamente di Diva, di Ruby Woo e di Rebel. Io vi ho parlato già di questi prodotti, quindi se volete andate a vedere anche i video sui prodotti MAC, dove vi mostro anche gli swatch e tutto quanto. Vi mostro solamente lo stick. Diva è questo Borgogna bellissimo che adoro. Lo utilizzo prevalentemente d'inverno perché l'esate è molto molto scuro e utilizzo altri tipi di rossetti d'esate, però Diva d'inverno è meraviglioso. E questo rosso intenso con una punta di mattone stupendo. Di fucsia, insomma, via di fucsia, di rosso mattone bellissimo e lo adoro. E questo qui è famosissimo, tutte le youtuber penso che ce l'abbiano e quindi non poteva mancare neanche nella mia collezione. Altro rossetto di MAC è il Ruby Woo. Questo è il più famoso di MAC e questo è il rosso più famoso di MAC ed è uno dei miei rossi preferiti che ho. Oltre a un rossetto di Nabla, il... come si chiama? Non mi ricordo il nome. Comunque, il Ruby Woo è meraviglioso. Ah, Rouge Mon Amour, il rosetto di Nabla. Questo qui è molto simile, però questo qui forse ha una tonalità un po' più fredda, infatti sbianca tantissimo i denti, è matte e infatti è molto molto secco, però è fantastico. Poi il Ruby Woo ha un odore diverso rispetto agli altri rosetti di MAC, non lo so perché, ha un odore fantastico. E nulla, quindi Ruby Woo non potevo non averlo perché ce l'hanno tutte, quindi devo averlo anch'io. L'ultimo rossetto acquistato per colpa vostra, per colpa delle mie colleghe, tra virgolette, è Rebel, che tra l'altro... ah no, ho già il Wet n Wild, che è il Youp. Comunque, questo è Rebel, che è questo color viola, che qui tra l'altro, visto dallo stick, sembra molto più oscuro in realtà, molto più chiaro, è simile a quello che indosso e mi piace un sacco, è bellissimo. È molto particolare, anche questo qui lo utilizzo più d'inverno che d'estate, perché la vedo una colorazione un po' più invernale, ed è stupendo. Questo qui invece è un saten, che tra l'altro, insieme ai MAC, è il mio finish preferito, e quindi questi qui sono, diciamo, secondo me i più famosi, insieme ad altri, però quelli che ho acquistato io sono i più famosi di MAC, che insomma, mi hanno convinta ad acquistare questi prodotti, guardando ovviamente i video. Gli ultimi tre prodotti sono sempre l'Abra, tra l'altro sono dei dupe di rossetti che vi ho mostrato, e sono i rossetti di Wet n Wild, anche questi qui molto molto famosi sui canali, e sto parlando dello Sugar Prom Fairy, che è il dupe di Rebel, che è quello che indosso oggi, che è questo viola molto molto bello, viola con una punta di fucsia molto molto bello. Gli altri due invece sono il Cinnamon Spice e il Cherry Bomb, che sono questi colori un po' più scuri, un po' più intensi, che uno dei due dovrebbe essere il Cinnamon Spice e il dupe di Diva, quindi questo Borgogna molto molto bello, scuro, intenso, stupendo, e l'altro invece il Cherry Bomb, che è molto simile ma è leggermente più scuro, ha una punta un po' più di... cioè il Cinnamon Spice è leggermente più rossassero, questo qui invece è un po' più violace, è un po' più scuro. Adoro questi rossetti di Wet n Wild, lo sapete benissimo, sono tra i rossetti low cost migliori che ho, anzi di questi qui per fortuna li ho acquistati, anche perché costano poco e sono di un'ottima qualità, durata fantastica, io ne ho tanti di questi rossetti, li straconsiglio perché sono meravigliosi. Però ho voluto appunto mostrarvi tutto quello che io ho acquistato, influenzata da YouTube e dai video che guardavo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia risultato interessante, utile, insomma, come volete, ma soprattutto spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!